Ora passiamo a definire che cosa sono le moli che si indicano con la n minuscola. Facciamo degli esempi concreti. Prendiamo l'acqua, non necessariamente in fase gassosa, può essere anche liquida o ghiaccio e già sappiamo che una molecola d'acqua ha la massa di 18 UMA. Allora, per definizione, una mole d'acqua sono 18 g d'acqua o, in altre parole, la massa molare dell'acqua è 18 g. In pratica che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto UMA e l'abbiamo sostituito con grammi. Abbiamo tolto un'unità di misura e messo un'altra. Infatti una mole è una quantità di grammi numericamente uguale, quindi 18 rimane 18, numericamente uguale alla massa della molecola espressa in UMA. Quindi una quantità di grammi, numericamente il 18 rimane, uguale alla massa della molecola espressa in UMA. Quindi vuol dire che al posto di UMA devo mettere grammi. La nitride carbonica, la massa di una sua molecola è 44 UMA, levo UMA, metto grammi e ho ottenuto una molle di anidride carbonica. 44 g è la massa molare dell'anidride carbonica. Metano, 16 UMA la molecola, la massa della molecola, levo UMA, metto grammi. Che cos'è una molle di metano? Sono 16 g di metano. Passare dall'unità di misura UMA all'unità di misura grammi è un salto logico molto importante, perché UMA è qualcosa di leggerissimo. Infatti ricordiamo che l'unità di massa atomica è dell'ordine di 10 alla meno 27 kg, 10 alla meno 24 g. Quando noi invece togliamo UMA e mettiamo grammi, stiamo invece considerando una quantità di sostanza macroscopica che si può pesare su una bilancia. Quindi il salto da UMA a grammi vuol dire passare dal mondo microscopico, la massa delle singole particelle, al mondo macroscopico, cioè delle masse che si trovano dentro provette oppure che si possono pesare sulle bilance. Quindi si passa da una particella a una molle, quindi da una cosa leggerissima a una quantità di sostanza macroscopica in grammi. Qui ho fatto esempi con le molecole, ma posso fare anche esempi con gli atomi. Il concetto rimane lo stesso. Qua, per esempio, ho preso un atomo di carbonio 12, la sua massa atomica, queste si chiamavano masse molecolari, perché hanno molecole, questa è la massa atomica, è 12 UMA. Quanta è una mole di carbonio 12? Basta che levo UMA e ci metto grammi. 12 grammi è una mole di carbonio 12. Se prendo il carbonio 14, che è molto meno abbondante, prendo il carbonio 14, la massa della molecola è 14 UMA. Levo UMA, metto grammi, e ho ottenuto una mole di carbonio 14. Vedremo tra poco che per passare dalla massa di una particella alla massa di una mole, abbiamo detto si leva UMA, si mette grammi, ma corrisponde, equivale a prendere un numero di particelle molto grande, un numero di Avogadro, che è 6,02 circa, 6,022, per 10 alla 23. Dunque, ecco come si fa a passare dal mondo microscopico, la massa di una particella, al mondo macroscopico, la massa di una mole. In pratica vedremo, lo dimostriamo tra poco, che una mole è formata da circa 6 per 10 alla 23 particelle. Quindi una cosa che è microscopica, leggerissima, diventa una cosa macroscopica che ha una massa che si può misurare con una bilancia, perché si tratta di prendere un grande numero di particelle, un numero di Avogadro. Facciamo degli esempi concreti, gli stessi di prima. Prendiamo l'acqua, una molecola, 18 UMA, per passare a una mole, 18 grammi, vuol dire che ho preso, in un contenitore ci ho messo, 6 per 10 alla 23 particelle, un numero di Avogadro di molecole. Prendiamo l'elio 3, questi sono atomi, la massa dell'atomo è 3 UMA, ma allora per passare a una mole, 3 grammi, vuol dire che ho preso un numero di Avogadro, cioè 6 per 10 alla 23, atomi di elio 3. Lo stesso con l'elio 4. Ho preso 6 per 10 alla 23 atomi di elio 4, così sono passato da un atomo a una mole, 4 UMA la massa di un atomo, 4 grammi la massa di una mole. In pratica è questo il disegno. Una sola particella è la massa della particella, quindi la massa molecolare o la massa atomica, una sola particella, ma io ne prendo un numero enorme, ne prendo un numero 6 per 10 alla 23, e alla fine tutta questa massa contenuta qua dentro è espressa in grammi. Quanti grammi? Tanti grammi, quanta era la massa dell'atomo, della molecola in UMA? 3 UMA, 3 grammi, 4 UMA, 4 grammi. L'ossigeno biatomico 32 UMA, perché 32 UMA? Perché ciascun atomo di ossigeno è 16, questo è un biatomico, quindi la molecola è fatta di due atomi legati, e quindi 32 UMA. 32 UMA, 32 grammi, che cosa ho fatto per passare dal mondo microscopico della singola molecola al mondo macroscopico dei 32 grammi? Ho messo insieme 6 per 10 alla 23 particelle di ossigeno biatomico. e il caso più semplice di tutti è quando ho l'idrogeno prozio, che è quasi tutto idrogeno di questo tipo qua, questo isotopo, e la sua massa, la massa di una molecola è un UMA, una sola, perché c'ha un solo protone. Come faccio a passare da una UMA a un grammo? Prendo un numero di Avogadro, quindi 6 per 10 alla 23, atomi di prozio, cioè di idrogeno. Dunque, è questo enorme numero di Avogadro che fa passare dal mondo microscopico di una particella, al mondo macroscopico di una mole. Vediamo adesso come si dimostra questo numero, come si ricava.